Non possiamo chiaramente scavalcare a pie pari alcuni momenti forti dell'anno liturgico, dell'anno delle nostre comunità. Sarebbe come arrivare a Natale e non parlare un po' del Natale. Sarebbe come arrivare a Pasqua e non fermarci un po' sulla Pasqua. Arriva la Pentecoste. Forse, ecco, rispetto al Natale e alla Pasqua, la Pentecoste sembra un po' una parente povera come festa. Ma in effetti non dovrebbe essere così. Ecco perché ci permettiamo e ci permettete di fermarci un attimo a guardarci dentro a questa festa. Don Riccardo che è qui con noi e che è impegnatissimo in questo tempo, che va a chiudere l'anno pastorale, guarda l'estate, si mette le mani nei capelli perché creco i ragazzi, impegni con le varie parrocchie, villeggianti che arriveranno. Meno male che è giovane e ardito, per cui le forze ce le ha. Allora, Don Riccardo, sta Pentecoste, è parente povera del Natale o della Pasqua? Possiamo un momentino ridarle la dignità che gli spetta. E forse sei un po' ingeneroso dicendo che è parente povera. È vero, forse magari nel modo in cui la si vive, il fatto che non sia contornata magari anche da quei giorni festivi che nella nostra tradizione accompagnano le feste di Natale, anche un po' quelle di Pasqua, magari ce la fa ritenere un po' una delle tante feste. Fatto forse che sia collocata anche in una serie di domeniche dove si estendono alcune solennità. L'ascensione settimana scorsa e poi la Pentecoste e poi la Trinità e poi il Corpus Domini e poi il Sacro Cuore. Tutte feste col massimo grado, chiamate solennità, magari rischia un po' di mettercela in secondo piano. Però se ci pensiamo, la Pentecoste, almeno dal racconto che ce ne fa l'Evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli, segna proprio l'inizio della vita della Chiesa, la vita della testimonianza della Chiesa. Quindi potremmo dire che diventa quasi un po' la festa di compleanno di tutta la comunità dei credenti che è la Chiesa. Tra l'altro noi parliamo di Pentecoste, ma non è neanche una novità cristiana la Pentecoste, perché in effetti, tu dicevi Luca nel Libro degli Atti degli Apostoli, dice che questo accadimento, il dono dello Spirito Santo, perché poi i cristiani appunto fanno memoria e rivivono e sperano di poter continuare a ricevere questa luce, questa presenza dello Spirito di Gesù risorto. Magari ne vediamo qualcosa dopo se volete, ma non è una festa diciamo inventata tra i cristiani, aveva già una buona radice anche nella storia del popolo e la tuttora del popolo ebraico. Certo, anche la Pasqua, sappiamo, era già una festa ebraica che poi chiaramente in chiave cristiana si conserva magari il nome, si conserva la collocazione dell'arco dell'anno, però chiaramente ha un significato tutto diverso. E così la Pentecoste, ecco nel calendario ebraico, nasce all'inizio come una festa agricola, legata un pochino alla dimensione dell'agricoltura, con l'estate ci sono i primi raccolti, diventava un pochino la festa delle primizie che venivano offerte a Dio come segno di gratitudine per la bella stagione, per il fatto che i frutti fossero arrivati, quindi come segno proprio un po' della benedizione di Dio. E poi anche nel cammino della storia di Israele, in un secondo momento, si è arricchita anche di un'altra connotazione più legata alla sua storia, magari lasciando perdere un pochino questa connotazione più agricola, diventava la festa per la gratitudine della legge, quindi diventava la festa in cui dire grazie al Signore per quelle dieci parole, i dieci comandamenti, che diventavano il punto di riferimento per la vita di Israele. E quindi, pensando al dono dello Spirito, ci rendiamo conto che diventa proprio un po' una festa anche di quella nuova legge, che è la legge dell'amore. quel racconto di Luca che tra l'altro passa attraverso alcuni segni che rendono, speriamo un po' più agevole e facile comprendere che cosa dona questo Spirito, perché sentiamo di quel vento, di quelle luci, di quelle fiaccolette di fuoco che si pongono sulla testa degli Apostoli e poi il fatto che tutti capivano il linguaggio degli Apostoli. Qui verrebbe ancora, proprio per tenere il filo, Riccardo, al fatto del richiamo all'Antico Testamento, dove c'è un accadimento che tanti di noi forse ricordano, quando la Bibbia si raccontava forse un po' di più, che era la storia della Torre di Babele. Potremmo dire che la Pentecoste, stando un po' anche alla descrizione che ne fa Luca, è un po' l'antibabele o capovolge quello che era successo nella storia della Torre di Babele. Certo, credo che non serva raccontare adesso l'episodio di Babele, ma per farla breve, insomma per rinfrescare un po' la memoria, quel momento in cui gli abitanti della terra vogliono fare una torre che arrivi fino a Dio. Non era tanto il fatto che fosse un progetto edilizio ardito, ma dietro questa cosa qua ci stava anche quel senso un po' di superbia, di voler arrivare noi. Siamo noi che costruiamo qualcosa che arrivi fino a Dio e quindi alla fine vuol dire che siamo poi pari a Dio. Ecco, questo fa sì che, potremmo dire che questa superbia, confonde le lingue delle persone che su questo cantiere non si capiscono più, perché ciascuno parla la sua lingua e non riescono più a intenderci a questo progetto naufraga. Chiaramente questo porta in sé anche un po' il linguaggio del mito, quando l'uomo non sta più al suo posto, non si sente più subordinato a Dio, ma non schiavo, schiacciato, figlio, figlio amato, ecco che questa superbia ti porta poi al fatto di non comprenderti più con chi c'è accanto a te, perché diventa non più un fratello amato da Dio, ma quasi un nemico, uno che può insidiare anche quella che è la tua libertà. E quindi questo progetto naufraga. Il fatto che appunto, come ricordavi, Luca ci dice che dopo la Pentecoste questi dodici scalcinati che sono gli apostoli, perché nel frattempo era stato aggiunto Mattia al posto di Giuda, trovano il coraggio di uscire e di dire la loro fede e di dire che Gesù, il crocifisso, è morto, è risorto. E il fatto che tutti sentono nella loro lingua tutta questa moltitudine di persone che appunto era presente a Gerusalemme per la festa, ci fa capire proprio che nella Nuova Alleanza quella confusione creata dall'invidia degli uomini, dalla superbia degli uomini viene, per così dire, riassunta dall'intervento di Dio che ci permette ancora di sentirci fratelli e fratelli amati. È bello questo perché in fondo poi richiama appunto l'opera dello Spirito Santo nella stessa Chiesa, perché anche nella Chiesa il rischio c'è. A parte che Gesù ha pregato, pensate un po' che gli era stato a cuore fa che siano uniti. Padre fa che mantengono l'unità. In effetti la storia della Chiesa sappiamo che è andata purtroppo in tutt'altra direzione, oggi si sta tentando forse un po' di più di rabberciare questa divisione però. Ecco, il fatto che lo Spirito Santo appunto animi la Chiesa, forse ecco chiama un po', Papa Francesco sta insistendo tanto su quelli che sono i peccati della disgregazione, su quelle che sono le disgraziate modalità con cui si creano divisioni eccetera. E quindi questo richiamo all'unità per una buona testimonianza. Ecco, lo Spirito Santo anche oggi, direi nella Chiesa, è colui che ci aiuta ad avere un linguaggio unitario che è il linguaggio dell'amore, pur nella differenza delle culture, nella differenza anche se vogliamo dei modi di intendere la vita. Però Don Riccardo c'è anche un fatto che forse dobbiamo recuperare, perché noi parliamo della Chiesa animata dallo Spirito Santo, però diremmo in partenza la vita di ciascun cristiano è animata dallo Spirito Santo, tant'è che noi veniamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. San Paolo ci dice che siamo Tempio dello Spirito Santo, che ciascuno di noi è abitato da questa presenza. Possiamo un po' aiutarci a capire ecco come è lo Spirito che ci abilita alla fede e alla vita cristiana, non è semplicemente uno sforzo nostro che rischia tante volte di naufragare perché le nostre capacità sono abbastanza limitate. Ecco, il dono dello Spirito nella vita di ogni cristiano e di ogni persona che lo accoglie. Ma vedi Don Leone, io credo che qua più che mettersi adesso a fare dei trattati, anche perché io non sarai in grado, tu sicuramente hai studiato a Roma, quindi senz'altro sarai più sgamato di me. Sul modo con cui dicevo lo Spirito agisce nella nostra vita, io credo che valga la pena che ciascuno di quelli che ci ascolta e che magari hanno ancora un po' un briciolo di fede pensi alla sua vita. Ecco, io credo che nella vita di ciascuno sia successo un momento in cui magari un brano di Vangelo che hai ascoltato tante volte, lo ascolti in un'occasione particolare e lo senti con una forza incredibile, magari un po' come una lama che ti arriva anche proprio dentro, nel cuore. Ecco, quello è segno che in quel momento lì sta agendo lo Spirito. Magari un'altra volta può essere che hai incontrato un testimone della fede autorevole, magari un prete, ma non necessariamente un prete, un religioso, una religiosa, comunque qualcuno che hai visto in maniera bella, no? Come una persona di fede e hai sentito quasi il desiderio di vivere così. Ecco, lì c'è in azione lo Spirito Santo. Magari ti sei confessato tante volte, però c'è stata quell'occasione in cui durante la confessione quelle parole che ti sono state dette hanno avuto la forza di farti vedere la tua vita in una prospettiva diversa. Ecco, vuol dire che lì ha agito lo Spirito Santo. Ecco, per dire come lo Spirito del Signore che appunto continua a darci la forza di vivere, di testimoniare, di pregare. Non potremmo neanche rivolgerci a Dio se non avessimo questo dono dello Spirito che diventa questo canale che ci mette in comunicazione con Dio Padre, perché lo Spirito potremmo dire che è quasi l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio, che è così intenso, così vero, che è Dio stesso e quindi è questo dialogo d'amore. Magari un teologo potrebbe inorridire di fronte a queste mie parole, però credo possa essere un po' un'immagine che ci dice il modo in cui lo Spirito agisce e lavora proprio nella concretezza di ogni persona. Ecco, è bene forse richiamare come la conoscenza nostra dello Spirito nasce dai frutti, perché altrimenti abbiamo un po' l'idea di qualcosa di evanescente. Abbiamo forse detto ancora il Padre, vabbè, ci richiama anche solo un'immagine concreta, il Figlio che si è fatto uomo, poi chiaramente più palpabile di così, ma lo Spirito Santo, l'impressione di qualcosa di un po' strano, di un po' evanescente appunto, di non prendibile, che ci porta anche a non capire un po' cosa fa in giro, se fa qualcosa, questo dono del Cristo risorto che poi è Dio stesso, ecco i frutti dello Spirito Santo. Giustamente dicevi Riccardo i frutti nella vita personale, nel cammino della fede, i frutti nella capacità di fare cose che ti sembrerebbe, forse non saresti stato capace di fare, ti meravigli quasi di te stesso, i frutti di bene che ci sono nel mondo da parte di tante persone. Don Riccardo, pensavo proprio in questi giorni, in Egitto c'è stato quell'assalto a quel pullman che stava andando con un gruppo di pellegrini a un santuario. Il Papa ne ha parlato domenica scorsa all'Angelus, a Piazza San Pietro, dicendo appunto che sono stati addirittura chiamati a rinnegare Gesù Cristo e la propria fede e non l'hanno fatto pur sotto la minaccia della morte. Ecco io penso che il tema del martirio, che poi è il martirio anche della vita e della testimonianza quotidiana di ciascuno di noi se vogliamo, ma è il martirio di chi si trova di fronte anche a queste situazioni drammatiche, ultimative, credo che sia proprio un po' una forza, come si spiegherebbe che delle persone abbiano quell'energia, quella capacità di dare la vita, ecco che è poi quello che Gesù Cristo in un modo o in un altro chiede a tutti, che la vita sia data. Senza lo spirito probabilmente Riccardo non andremmo da nessuna parte e soprattutto non si spiegherebbero questi gesti grandiosi di fede e di testimonianza. È vero, potremmo anche pensare, qualche maestro cristiano l'ha anche detto, magari parole un po' forti, che il martirio è dono dello spirito. Certo, sono parole che ci fanno un po' impressione perché noi giustamente gridiamo di fronte all'ingiustizia che ci sta dietro ogni martirio, ci mancherebbe. Però mi viene da dire Don Leone, se uno arriva in quel momento lì e ti viene detto o ti converti e rinunci alla tua fede, se no ti ammazzo e bastava che uno dicesse sì, rinuncio alla mia fede e aveva salva la vita, forse vuol dire che dietro ci sta anche una seria vita di fede. Io credo che il martirio non si improvvisi, non è un momento così dove arriva l'influsso dello spirito, allora anche tu che sei mezzo scassato hai la forza di sprezzante quasi di andare contro e di preferire il legame con il Signore a quello che è la tua vita. Io dico che certo in quel momento lì serve un supplemento di forza, potremmo dire, parafrasando il tantumergo, ma è qualche cosa che comunque arriva perché tu hai dietro un'impostazione di fede seria e la vivi come qualche cosa di grande, non come un qualcosa che se c'è bene, se non c'è alla fine è ancora la stessa cosa. I santi, alla fine direi i frutti belli dello spirito, la santità, questa misura alta della vita come tante volte ricordiamo detto da Papa Giovanni Paolo II, la misura alta della vita e avere la capacità di guardare alto, di avere orizzonte lungo, di gestire la vita con respiro forte che è il respiro della fede, la prospettiva di Gesù Cristo. Ecco direi la santità è veramente la traduzione della presenza della forza dello spirito. Ed i santi, ecco in questo senso qui sì, possiamo pensare ai santi martiri, possiamo pensare a certi santi grandi della storia della Chiesa, ma sarebbe bello che imparassimo forse a conoscere anche i santi della nostra quotidianità, i santi magari con cui condividiamo la vita nelle nostre case, nei nostri paesi e che ci danno veramente il senso che lo spirito santo continua ad agire, perché poi santità non vuol dire che uno non ha qualche difetto, non vuol dire che uno non fa qualche peccato, vuol dire semplicemente che cerca veramente di essere secondo il Vangelo di Gesù Cristo nella struttura di fondo della propria vita. E in questo senso Riccardo c'è anche il fatto che noi, e stiamo in questo tempo celebrando i sacramenti della fede, i sacramenti del Cristo risorto che ci dicono la sua presenza, la sua opera, con la forza dello Spirito Santo. Forse ci dimentichiamo che i sacramenti agiscono perché Gesù Cristo risorto innesta dentro in questi segni la forza, la presenza, il dono del suo Spirito. A volte non ce ne accorgiamo neanche magari dalle parole che si usano nella celebrazione degli stessi sacramenti. Ma hai ragione, però potremmo lanciare questa proposta, no? Provate quando andate a messa, se qualcuno va ancora a messa, a vedere tutte le volte in cui viene nominato lo Spirito Santo, anche se magari la cosa scivola via. Ecco, non solo all'inizio quando si fa il segno della croce o alla fine, ma effettivamente il momento anche in cui nella liturgia eucaristica il pane e il vino diventano corpo e sangue di Cristo e viene fatto con la preghiera di epiclesi, no? Di invocazione dello Spirito. Il gesto anche del celebrante che impone le mani sulle offerte, ma il gesto di imposizione delle maniche viene fatto anche prima della soluzione, quando ti confessi. Il gesto dell'imposizione delle maniche accompagna ovviamente la cresima, l'ordine sacro in maniera ancora più grande perché diventa proprio il gesto principale, no? Per dire che proprio con questo gesto di imporre le mani dove uno non è che dice io ho il potere di darti lo Spirito, perché in quel momento lì ogni sacerdote, ogni prete diventa un canale attraverso cui la forza dello Spirito che viene da Dio e la sorgente è Dio, arriva poi però concretamente nella tua vita. È vero, non ci sarebbe vita di preghiera, vita sacramentale, vita testimonianza se non ci fosse questo dono dello Spirito che è proprio un po' questo ambiente divino in cui possiamo vivere e dare la nostra testimonianza. Mi viene sempre un po' da pensare a quel mio insegnante di italiano che all'inizio dell'ora di scuola faceva sempre una preghiera proprio allo Spirito Santo, ma noi ci chiedevamo come mai, in genere non so, si dice l'Ave Maria, si invoca la Madonna, Madre del Buon Consiglio, eccetera, si dice il Padre Nostro che è la preghiera di Gesù e così via. Lui invece invocava sempre il dono della forza, la luce dello Spirito Santo, forse perché non aveva troppa fiducia neanche nella nostra testa, no, non è neanche vero, per cui invocava lo Spirito perché ci aiutasse a capire qualcosa di più e di meglio magari, però in effetti ripensandoci tutto è sotto la luce, la forza e la vita dello Spirito che è lo Spirito di Gesù risorto, tant'è che quando Gesù si presenta risorto agli Apostoli, la pace sia con voi, ricevete lo Spirito Santo e nella Pentecoste che celebriamo appunto ancora in questa santa liturgia di questa domenica, lo Spirito che rinnova la sua presenza come già gli Apostoli nel Cenacolo dove rappresenta anche Maria insieme con loro e da lì il coraggio e la forza della buona testimonianza degli Apostoli. Insieme con il senso lì della luce dello Spirito, le varie lingue, c'è dentro sempre il tema del vento che poi all'inizio della Bibbia invece si dice che è un soffio, Dio soffiò nella polvere il suo Spirito, ma allora è più vento o è più soffio o è tutte e due a secondo delle situazioni di ricanto lo Spirito? Ma credo che una cosa non escluda dall'altro come giustamente stai dicendo tu, è soffio, questo soffio vitale che richiama proprio un pochino al fatto che Dio dona la vita, ma se vogliamo è anche vento, il vento credo che rispetto al soffio ti fa sentire la potenza, la forza, quindi potremmo dire che è un alito di Dio che ha la delicatezza del soffio, ha dentro la vita che il soffio può dare, ma dentro anche la potenza, la forza di buttare all'aria un po' le cose del vento, credo che tutti, almeno quelli che hanno qualche anno, ricorderanno durante i funerali di San Giovanni Paolo II quel vento che spazzava la piazza San Pietro e girava quasi vorticosamente le pagine di quel Vangelo che era messo lì sopra il feretro del Papa e che dava proprio un po' l'idea di questo Spirito che in quel momento gli stava continuando ad animare la vita della Chiesa. Bene, allora preghiamo così, vieni soffio dello Spirito, soffio di vita, vieni vento che anima, che dà anche un po' coraggio e che un po' spazza via anche il male magari che nel mondo e dentro di noi c'è. Ci auguriamo una festa buona di Pentecoste a ciascuno di voi, alle nostre comunità e a tutti, anche a Don Riccardo e agli amici qui di Antenna 2. Ringraziamo sempre anche quelli che andando in giro qua e là ci dicono un po' di seguire anche questa nostra rubrica, grazie anche della vostra attenzione e che naturalmente come sempre l'augurio di una buona domenica.